Ciao balli! Allora, anche oggi il Quasarone vi porta a un nuovo video e oggi vi portiamo la quest del Mangiasterco. E, bene, è così. E questa quest è importante perché anche lei sblocca un finale alternativo e ci dà la possibilità di incastrarci con un'altra quest secondaria che è la quest del Brigante. Una quest corta che però va a incrociarsi alla quest del Mangiasterco. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, mettere un bel mi piace e entrare nel nostro canale Discord. Trovate tutte le novità, potete chiederci aiuto per qualsiasi cosa e tante altre cose riguardanti appunto i videogame. Grazie per essere qui e ci vediamo di là. Allora ragazzi, come triggeriamo la quest del Mangiasterco? Molto semplice. Il Mangiasterco spawnerà nella tavola rotonda dopo aver battuto Raddan ed essere avanzati un po' con la questline principale. Quindi lo troveremo nel corridoio di sinistra della tavola rotonda, in fondo nell'ultima stanza. Si aprirà la porta, che è sempre stata chiusa, e troveremo all'interno il Mangiasterco. Non vi parlerà finché non gli porterete una maledizione del semenzaio. Forse la prima che trovate, la trovate quando arrivate nella capitale, dopo aver fatto il mini-ascensore, il primo mini-ascensore che c'era nella capitale, al secondo piano della torre si troverà lì una prima maledizione del semenzaio. Una volta che gliela portate, partirà la sua questline. La sua questline vi dirà che lui è situato in una cella sotto la capitale. Quindi dovrete, a questo punto, nel giardino della capitale, entrare in un pozzo. Questo pozzo vi darà l'accesso a tutti i sotterrani della capitale. A questo punto vi consiglio, ragazzi, esploratevela bene la capitale, esploratevi bene le profondità. Perché? Perché innanzitutto al suo interno c'è un'altra maledizione del semenzaio, che ci servirà poi appunto per la sua quest. Quindi esploratela bene. Una volta che trovate questo luogo di grazia, procedete a sinistra, entrate all'interno del buco, e troverete dei topi. Superate i topi, andate sulla sinistra, ci sono tre piante, salite sulla scala, attenzione alla mano che troverete perché vi uscirà una mano da terra, nella cella seguente ci sarà appunto lui. Quindi lo trovate tutto mezzo pazzo che prende a testate il muro, concludete il dialogo con lui e ritornate alla tavola rotonda. Tornate a parlare con lui, vedrete che non ci sarà più, ma ci sarà un messaggio a terra al posto suo. Questo messaggio vi dirà di incontrarvi nel fossato all'esterno della capitale. Prima di fare questo, ragazzi, vi consiglio di aver fatto gli step della quest secondaria del brigante, perché... Allora, innanzitutto chi è il brigante? Probabilmente se avete visto il video della quest di Villa Vulcano, lo avrete già incontrato perché è il brigante che ha rubato appunto il ciondolo al personaggio della quest di Villa Vulcano. Una volta che avrete acquistato 5 gamberetti da lui, vi sbloccherà nuove righe di dialogo. Concludete queste righe di dialogo e riposate di nuovo. Scoprirete che lui non ci sarà più, si sarà spostato. Lo troverete dopo aver superato il primo grosso montacarichi. Nel caso non lo trovaste lì, lo ritroverete poi nel laghetto dove dobbiamo andare ad incontrare il magiasterco. Lui sarà lì e vi dirà che si aggira da quelle parti il magiasterco, una persona pericolosa che è lì. Se non lo trovate, se il magiasterco non vi spona, andate di nuovo a riposare. Troverete probabilmente il brigante poi di nuovo ferito all'interno del fossato e vi sponerà quindi il magiasterco. Una volta che avrete quindi battuto il magiasterco, la parte della quest avanzerà. A quel punto riposate, tornate di nuovo nel fossato perché all'interno del fossato troverete il set del brigante. Vi avrà droppato perché, povero Cristo, è morto anche lui. Tornate nella cella che avete visto all'interno delle profondità della capitale e il magiasterco vi porterà avanti la questline e si, diciamo, concluderà qui. Non è del tutto conclusa perché, se non vi interessa sbloccare il finale secondario, potete ucciderlo, uccidetelo tranquillamente, oppure dovrete portargli altre maledizioni del semenzaio, altre 5 maledizioni del semenzaio. Ora vi dirò tutti i luoghi. Una volta che gliele avrete portate, lui vi darà una runa. Questa runa sarà poi la runa che vi servirà ad endgame per sbloccare il finale alternativo. Allora ragazzi, mi raccomando, seguite bene queste, ora vi faccio vedere le location. I 5 posti dove troveremo le maledizioni del semenzaio, in realtà saranno 6 in totale, sono questi. Uno appunto ve lo dropperà il brigante. Non è fondamentale questa parte, quindi se non avete incontrato il brigante, ricordatevi che in totale lui vuole 5 maledizioni. Ne potremo trovare 6 nel gioco, quindi possiamo eventualmente giocarcene una. Se non trovate quella del brigante, potete proseguire alle altre. La seconda maledizione l'avremo trovata e sarà la prima maledizione che gli avremo portato appunto a lui, e sarà quella esattamente dopo l'ascensorino della capitale. Al secondo piano troveremo un cadavere al suo interno, ci sarà la maledizione del semenzaio. L'altra la troveremo nelle profondità, avendo battuto i boss delle profondità della capitale. Quindi appunto, entrando nel pozzo dove avete incontrato il mangia sterco, continuate a proseguire per le profondità e scoprirete che all'interno delle profondità, anche lì, troverete una nuova maledizione del semenzaio, dopo aver battuto un boss nelle profondità. Un'altra si trova nella zona segreta, tra virgolette, dove troveremo tra l'altro uno dei boss più belli in assoluto del gioco. Veramente bellissimo! Bellissimo! E anche bello tosto ragazzi, molto tosto! Comunque da qui uno si trova proseguendo appunto come sto mostrando nel video, su queste colonne, buttandosi quindi su questo balconcino, all'interno troverete una maledizione. La seconda è sempre in questa zona molto vicino, troverete questa zona un po' più avanti, proseguite, seguite questa strada, e troverete anche qui la maledizione, la seconda maledizione, quindi saranno due maledizioni molto molto vicine. L'ultima ragazzi si trova nella versione alternativa della tavola rotonda, quindi sempre all'interno della capitale, dopo avrei sbloccato il grosso portone che trovate e aver trovato la zona, ci sarà l'accesso dal retro dove vedete la radice del grande albero, ci sarà l'accesso per la versione alternativa della tavola rotonda. Anche qui vi dirigete dove il mangiasterco è situato invece nella nostra tavola rotonda, e al posto di lui troverete anche qui un'altra maledizione. Quindi consegnate tutte le maledizioni al mangiasterco, dopo averle consegnate tutte, lui onorirà e vi dropperà la runa, che servirà poi per completare il gioco con un altro finale alternativo, il finale del mangiasterco. Ragazzi, vi ringrazio anche oggi per aver visto il video, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, e di nuovo entrare nel nostro canale disco. Ragazzi, grazie di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao!